Il grande fratello si prepara a una finale carica di sorprese con un colpo di scena che ha mandato in fibrillazione gli appassionati del reality show. A soli due giorni dall'epilogo si parla di un clamoroso ripescaggio di un ex concorrente pronto a rientrare in gioco proprio all'ultimo momento per contendersi la vittoria. Questa inaspettata possibilità di ripescaggio ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social network con i telespettatori del grande fratello divisi tra speranze e incertezze sul suo esito. Se confermata questa mossa rivoluzionerebbe completamente l'andamento della finale aggiungendo un elemento di suspense e imprevedibilità alla competizione. Si parla di Marco Fortunati ex concorrente eliminato nelle prime fasi del gioco come possibile ritorno nell'ultima fase del grande fratello. L'entusiasmo dei fan e le numerose richieste del fandom sembrano aver spinto verso questa decisione aprendo le porte a una conclusione epica del reality. L'ipotesi del ripescaggio di Marco Fortunati aggiunge un'ulteriore dose di eccitazione e interesse alla finale del grande fratello. Tra speranze e attese i telespettatori dovranno attendere con trepidazione lunedì 25 marzo per scoprire se questa sorprendente previsione diventerà realtà e se l'ex concorrente avrà la possibilità di lottare fino all'ultimo per il Montepremi.